Arresto a Gifoni e Valle Piana. I carabinieri della locale stazione agli ordini del Maggiore Fasolino hanno tratto in arresto un 25enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari nel corso di una perquisizione effettuata presso la sua abitazione hanno rinvenuto, nascosti all'interno di una coppa trofeo posta su un mobile del soggiorno, poco più di 40 grammi di ascici e suddiviso in 10 dosi. Sequestrate anche 3 grammi della stessa sostanza che il giovane spontaneamente ha consegnato ai carabinieri un colterro a stella manico e 75 euro in contanti.